Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come al solito oggi piccolo aggiornamento delle piattaforme ma oggi andiamo a vedere solo quelle più ad alto rischio, anzi altissimo rischio vi invito appunto a non prendermi di esempio assolutamente questi sono dei test, degli aggiornamenti che vado a fare di tanto in tanto per vedere queste piattaforme se stanno continuando a funzionare, se stanno dando dei problemi e soprattutto ce ne sarà una nuova che nel gruppo Telegram già l'abbiamo detta ma adesso andiamo a vedere più da vicino, anzi andiamo a fare anche delle prove di prelievo che in realtà, attenzione, non vuol dire che le piattaforme siano sicure non vuol dire nulla che il prelievo funzioni perché oggi può funzionare e domani no quindi non è da questo che si evince il risultato della piattaforma non sapremo mai quanto sia sicuro al 100% anzi queste piattaforme che andiamo a vedere di preciso oggi sono quelle ad altissimo rischio proprio perché non hanno una vera e propria sostenibilità alle spalle e solitamente dopo due, tre mesi falliscono quindi detto questo direi di spostarci al pc ovviamente trovate tutti i link in descrizione del gruppo Telegram delle piattaforme, non è un invito ad investire in queste piattaforme mi sento di ripeterlo perché magari molti dicono ok ma tu ce le fai vedere, ok io le testo e le faccio vedere a voi che poi voi volete rischiare, non lo so, 10 dollari, 20 dollari, 50 dollari cioè ragionateci prima di fare queste cose perché veramente sono piattaforme cioè non si sa da dove derivano questi guadagni non si sa come ci fanno a dare questo rendimento così alto le piattaforme serie sono altre e solitamente lo dico nei video quando la piattaforma mi sembra più seria del solito quindi ci spostiamo al pc e andiamo un po' a vedere come stanno andando queste piattaforme ed eccoci qua ragazzi allora io direi di partire subito con la prima che è quella che in realtà mi state chiedendo veramente, veramente tanto se ancora funziona, se ancora è possibile prelevare stiamo parlando di BNB Matrix e ragazzi sì, funziona ancora i depositi sono attivi, i prelevi attivi qualcuno mi ha detto che i prelevi sono stati ridotti cioè nel senso non vi dà più lo stesso interesse ma non saprei in realtà non so se questa cosa è ancora vera o no in qualunque caso noi qua abbiamo di prelevabile 0,0096 BNB adesso andiamo a vedere quanti sono in euro e li andiamo a prelevare andiamo nel nostro convertitore di BNB 0.0096 se non erro sì esatto e sono 5 euro e 17 centesimi io adesso direi di andare a prelevare direttamente aspettare e vedere appunto se arriva solitamente ragazzi sta funzionando fino adesso è sempre funzionato andiamo a pagare la fee se andiamo su Metamask e clicchiamo su BNB in corso BNB Matrix ci dirà che appunto il prelevo è in corso quindi non dobbiamo avere paura dobbiamo soltanto attendere qualche minuto e ci arriverà almeno, vi ripeto, sta sempre funzionando nel frattempo che arriva il deposito direi di spostarci nella nuova piattaforma di cui vi ho detto nell'intro si chiama BNB Royale ne abbiamo parlato già nel gruppo sono entrato 2-3 giorni fa ecco qua, totale investito 0.05 BNB equivalente di 30,44$ possiamo già prelevare ecco qua BNB 0.0059 BNB che equivalgono a 3,65$ io adesso direi di provare a prelevare non vi ho spiegato come funziona una solita cosa, connettete Metamask fate un deposito il minimo di deposito di 0.05 BNB quindi 30$ e ci sono i vari piani di investimento quello da 20 giorni, 30 giorni 45 giorni e 90 giorni con il solito ritorno giornaliero e il totale che vi dirà qui di fianco c'è sempre il referral program come al solito è possibile investire anche in BSD, Cake infatti c'è Cake Royale BSD e LT direi che magari possiamo provare anche quello con i Cake prossimamente però per ora andiamo a vedere come funziona cioè se paga, se continua è abbastanza nuova la piattaforma perché ci va a dire che è nata ecco qua, lanciata domenica 14 novembre quindi diciamo che è ancora abbastanza all'inizio nel frattempo vediamo un attimo se è arrivato ecco qua, è arrivato transizione riuscita ok BNB Matrix ci ha pagato quindi tutto a posto BNB Matrix possiamo confermare che è tra quelle che stanno funzionando ritorniamo su BNB Royal perché voglio fare un prelevo per volta 3 dollari e 66 ce li andiamo a prelevare facciamo conferma ovviamente adesso dovremo vedere la transazione qua in corso ecco qua e attendiamo appunto che ci arrivano le sto facendo uno per volta per non fare accavallare le transazioni magari poi ci vuole più tempo non so è parere mio cioè sto facendo io così giusto per comodità anche per far vedere uno alla volta se arrivano e se non arrivano ecco qua ragazzi si è sbloccato anche questa transazione è andata a buon fine come vedete anche i nostri BNB nel portafoglio stanno aumentando e anche BNB Royal ci ha pagato passiamo ancora a un'altra piattaforma BNB Factor come sapete bene con i BNB era andata in blocco perché non avevano più fondi per ripagare però 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 c'era una cosa da dire che ultimamente aveva fatto questo aggiornamento di cui vi avevo parlato perché prima era possibile investire soltanto in BNB adesso è possibile farlo con altre valute e io avevo testato proprio nel momento in cui si era bloccato con i BNB a depositare qualcosa in ADA e qualche altra cosa in Cake infatti pochissimo in realtà ci avevo messo però abbiamo maturato ecco qua un dollare e 47 in ADA e un dollare e 95 in Cake che adesso ci andremo a prelevare giustamente per vedere un po' anche se funzionano o se è accaduta la stessa cosa che succedeva depositando i BNB quindi andiamo a fare conferma e andiamo a prelevare i nostri Cake io avevo qualcosa in Cake qua no non ricordo se avevo qualcosa in Cake nel portafoglio vabbè ma comunque sia andiamo a prelevare la transazione ce la dovrebbe dare comunque qua ecco qua transazione in corso quindi appena verrà fatta la transazione vediamo se ha funzionato o meno ci dice che la transazione è stata fatta però non cioè dopo qualche minuto ecco qua transazione confermata però qua ci dà ancora i nostri Cake nel portafoglio non so non so non so se adesso accadrà la stessa cosa che è successa con i BNB proviamo ad aggiornare la pagina andiamo su Cake niente i nostri Cake sono sempre qua proviamo a fare la stessa cosa con Ada ma dico la verità ne dubito che funzioni anche con Ada adesso non so se magari non si è aggiornata la transazione oppure non funziona ragazzi cioè si è bloccato anche su queste altre valute addirittura non ci dà nemmeno la transazione se non erro bene bene molto bene direi che nel frattempo che attendiamo che arrivino gli Ada o i Cake anche se ripeto ne dubito veramente tanto ci andiamo a spostare sull'altra piattaforma che sinceramente io non definirei proprio altissimo rischio come queste perché diciamo è fatta un po' meglio nel senso non dico che sia sostenibilissima ma può esserlo perché questo si muove in un altro modo cioè nel senso non ci dà un guadagno fisso ma il guadagno varia in base alla potenza appunto che la piattaforma impiega per recuperare in pratica è come se ci fosse un API che può essere variabile quindi un guadagno annuale può variare è come se noi andiamo a depositare in una pool e il guadagno oggi può essere più alto domani può essere un po' più basso quindi magari questa può essere la cosa che ci fa pensare che non sia proprio proprio uguale a queste che ti dicono ti diamo il 10% al giorno e non si sa come non si sa dove sto parlando di BNB Energy che se andiamo in My Factory ecco qua abbiamo 0,030 BNB che equivalgono andiamo a vedere un po' 0,030 a 16 euro e 14 adesso andiamo a li preleviamo questa volta io ogni tanto li prelevo ogni tanto li metto in compound infatti inizia il deposito è di 0,19 BNB totale del deposito è 0,51 BNB che è il totale che ho sempre reinvestito a volte prelevavo a volte investivo questa volta preleviamo proprio per vedere sempre se va tutto a posto andiamo qua confermiamo la transazione e attendiamo vediamo un po' come va ecco qua dopo 2-3 minuti di attesa sono arrivati i nostri BNB transazione è andata a buon fine vediamo infatti il nostro portafoglio è aumentato qua si è azzerato il BNB mined ragazzi che dire fino adesso solo BNB factor continua a ecco qua ragazzi si è aggiornato anche il cake di BNB factor quindi anche BNB factor già lo stavo screditando è andato abbastanza bene forse quello più preoccupante con Ada niente non è andato non mi ricordo se ho riprovato vabbè caso mai dopo riprovo non è così importante diciamo che tra virgolette sono andate tutte abbastanza bene cioè sono andate bene no abbastanza perché BNB matrix tutto a posto BNB royal tutto a posto già abbiamo fatto altri due centesimi wow BNB factor né bene o né male ci siamo riusciti BNB energy vi dico la verità non avevo più di tanti dubbi perché ragazzi non lo so rispetto a queste qua che sono ad altissimo rischio ovviamente ce ne sono altre poi magari faremo un video su tutte quelle là che conosciamo oppure in cui investiamo sono BNB energy è quella in cui ho più fiducia come dire cioè rispetto alle altre la vedo un tantino più sicura quindi dai vedremo nel tempo come si comporta magari ogni settimana appunto andrò a fare un piccolo aggiornamento giusto per capire per vedere a che punto siamo arrivati e soprattutto la piattaforma ci sta dicendo che ci saranno altri aggiornamenti quindi magari in seguito andiamo a vedere anche cosa cambierà c'è pure la roadmap diciamo rispetto agli altri c'è quella piccola cosa in più quindi niente il video finisce qui ripeto ciò abbiamo prelevato in tutte le piattaforme siamo andati bene come dire però ciò non vuol dire appunto che queste piattaforme sono sicure anzi ripeto sono a rischio abbastanza elevato magari ecco possiamo chiamarle opportunità perché si possono sfruttare nel momento che escono nel momento che queste piattaforme sono ancora nuove hanno si può sfruttare la cosa ma comunque è molto rischioso perché ripeto oggi possono funzionare domani non funzionano ovviamente sapete già lo ripeto però ormai già sapete tutto quindi niente noi ci vediamo al prossimo video speriamo che continuino ad andare comunque un verso nell'altro speriamo che continuino a funzionare così almeno facciamo altri soldi noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti